Ragazzi volevo informarvi che è uscito dello store ufficiale, qui potrete trovare magliette e molto altro Mi raccomando se comprate qualcosa taggatemi su istram che ricondividerò la storia Mi raccomando Elena, sono io, questo che stavo a scrivere in chat No No È per chi è dur È per chi è dur È per chi è dur No, 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 mi siede Dai ma che palle, Dio santo che culo quella E poi Se mettessero la chat vocale degli avversari ti prenderessi dei chitamuort volanti proprio Cioè quello che si è beccato quel ciondo vedi l'era proprio Dichitamuort da dove Scusa mi serviva, l'avete Sì vabbè Poi dite che sto gioco non fa scifo, dai Dite pure il coraggio di dire Ma quel colpo è andato, scusatemi Mi c'è che brutto rumore Adesso vai, duro tu No, eh, non posso scendere solo per te Ma in realtà sì È sempre una kill Ma in realtà sì 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 Sì, lì qui C'è un po' più durmato Che cos'era quello? Il maiale che è in te Padovano e si sente anche dall'accento e si deve salvare Non ti deve mai riuscire Non ti deve mai riuscire Non ti deve mai riuscire Dio che al Grazie a tutti 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 Che culo quello No No Grazie a tutti No 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 Grazie a tutti.